Oggi vorrei provare ad affrontare un tema che ultimamente mi è stato richiesto più volte nei commenti a diversi filmati, ovvero la storicità della Guerra di Troia. Si tratta di un argomento decisamente molto complesso, e per trattarlo in maniera che non risulti superficiale è necessario portare avanti una forma di analisi di tipo trasversale. Infatti per prima cosa in questo filmato andremo ad esaminare il concetto di mito, le sue prerogative e le sue finalità, ovviamente applicando il tutto all'Iliade, cercando poi di capire quanto un rapporto identificativo e diretto con uno specifico evento storico sia o meno un elemento necessario e fondante. Poi passeremo a trattare del sito che è oggi universalmente riconosciuto come quello della città cantata da Omero, ovvero la collina di Isserlik in Turchia, e degli scavi che vi sono stati effettuati che hanno portato alla luce tutta una serie di elementi molto interessanti. Dal dato archeologico ci trasferiremo a quello letterario, andando ad esaminare un corpus di documenti ritrovato nell'archivio della città di Khattusha, la capitale dell'Impero Ittita, in Anatolia, ovvero in Turchia. Questo corpus di documenti tratta dei rapporti durante la Tarda Età del Bronzo tra gli Ittiti e una realtà occidentale nota come Ahiyawa, che probabilmente va riconosciuta nel mondo miceneo. Dopo aver analizzato i primi rapporti tra gli Ittiti e Ahiyawa andremo ad analizzare un ulteriore elemento che traspare da questo archivio, la città di Wilusa, che probabilmente va riconosciuta nella Troia cantata da Omero. Infine andremo ad osservare un evento di tipo militare che vide interagire gli Ahiyawa, gli Ittiti e appunto la città di Wilusa. Dopo aver raccolto tutti questi dati cercheremo di tracciare una riga e di giungere a delle conclusioni interessanti e plausibili. Prima di cominciare come sempre vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, ed ora immediatamente lanciamoci in questo viaggio complesso ma molto interessante nella storia e nella leggenda della guerra di Troia. Un dato che dobbiamo tenere sempre a mente è che l'Iliade è innanzitutto una produzione letteraria, un testo epico e mitologico che in quanto tale assorbe a tutta una serie di funzioni che travalicano il mero fissare la memoria e il ricordo di uno specifico evento storico avvenuto in passato. In quanto testo mitologico l'Iliade ha al suo interno tutta una serie di allegorie e soprattutto di modelli, sia positivi sia negativi, evidentemente pensati con una funzione didattica ed educativa per l'ambito sociale. Abbiamo un Achille, che è la quintessenza dell'eroe, abbiamo Ettore, buon padre di famiglia e patriota, che è un emblema di rettitudine, e abbiamo anche un Tersite invece che è disgustoso nel corpo e abietto nell'animo. Non solo i personaggi sono archetipali, ma anche le azioni che compiono e potremmo dire le scene che recitano. Ad esempio Agamennone facendo un uso scorretto della realità, comportandosi da re ingiusto, privando Achille di una porzione di bottino sua di diritto, va indirettamente a scatenare la disgrazia sulle schiere degli Achei, e quindi anche in questo caso noi abbiamo una lezione che viene impartita, un paradigma che ci viene presentato. Al di là dell'aspetto pedagogico poi, l'Iliade ha anche un'altra funzione, che è quella di nobilitare e di offrire una base per l'etnogenesi dei Koina del mondo greco. Essere presenti con il proprio popolo, le proprie città, e la propria regione di provenienza nel catalogo delle navi era qualcosa che andava a nobilitare il Koinon e soprattutto a giustificarne il rapporto col territorio, secondo un'operazione che purtroppo a volte viene portata avanti ancora adesso. Da questo punto di vista noi dobbiamo quindi tener presente anche che l'Iliade è frutto di una costante stratificazione di nuovi elementi, che vengono aggiunti a seconda delle necessità politiche del momento, con nuovi eroi eponimi, nuovi popoli, nuovi eventi che vanno a sommarsi ad un corpus che diventa sempre più grande e sempre più ricco. A riprova di ciò noi abbiamo tutta una serie di elementi relativi alla cultura materiale che provengono evidentemente da orizzonti cronologici diversi. Abbiamo elementi che sono propri del Tardo e Ladico, come gli elmi in corna di Cendiale, i duelli tra campioni, i carri da guerra, ed elementi invece che sono più probabilmente propri del Medioevo ellenico addirittura della sua fine, come il rito dell'incinerazione o i combattimenti portati avanti tra formazioni ultraserrate di guerrieri, che ammiccano probabilmente ai prodromi del combattimento oplitico. Considerando quindi tutti questi aspetti è evidente che cercare un collegamento totalizzante, un rapporto identificativo e diretto con uno specifico evento storico non solo è destinato al fallimento, ma è anche metodologicamente errato. Ciò non toglie però che comunque, pur tenendo presente quanto detto sinora, può essere interessante cercare all'interno della documentazione storica e archeologica tutta una serie di riferimenti che possano aiutare a identificare uno o più probabilmente molteplici eventi storici che in qualche modo hanno contribuito a creare la cornice all'interno della quale Omero, o chi per esso ovviamente, ha strutturato il suo poema. Da un punto di vista strettamente archeologico il sito della Troia Omerica, o meglio di quella città che i classici avevano identificato con la Troia Omerica, ad oggi è universalmente riconosciuto con la collina di Isserlich in Turchia, scavata tra il 1870 e il 1890 dall'appassionato tedesco Heinrich Schliemann. Va detto che la città aveva attraversato già a partire dall'età del Bronzo fino al Medioevo Fasi Alterne di Abbandono e Ripopolamento, e che almeno fino al XV secolo la sua ubicazione era ancora nota, quando secondo lo storico bizantino Michele Critobulo vi si era recato il sultano dei turchi ottomani Maometto II per celebrare a distanza di nove anni la sua conquista di Costantinopoli, presentata in quel contesto specifico in chiave propagandistica come la giusta retribuzione in Clitta i Greci per aver devastato in un'epoca remota una città presentata come Asiatica ed Orientale. I diversi dati di scavo che sono emersi durante gli anni offrono almeno due strati che potrebbero essere accostati alla Troia cantata da Omero, Troia VI datata tra il 1700 e il 1300 o il 1250 a.C. e Troia VIIa, datata tra il 1300 o il 1250 a.C. e il 1170. Troia VI, con i suoi bastioni imponenti e il suo grande impianto insediativo che poteva mantenere una popolazione in grado di gareggiare con quella di vere e proprie metropoli del vicino Oriente antico, sarebbe compatibile con la descrizione maestosa che fa Omero nell'Iliade, mentre Troia VIIa invece presenta un diffuso strato cineroso compatibile con un incendio, oltretutto messo in relazione con tutta una serie di reperti che sembrerebbero indicare un fatto di guerra. Anche la datazione dei due strati sarebbe compatibile, poiché non c'era accordo presso i classici relativamente alla data della guerra di Troia, che spaziava dal 1334 a.C. proposto da Duride di Samo, fino al 1170 a.C. proposto da Sosibio. Per quanto riguarda i reperti documentali ed epigrafici relativi agli strati dell'età del bronzo, purtroppo si tratta di materiali frammentari e di difficile interpretazione, e quindi se vogliamo trovare degli scritti che narrino della storia della città, cercando un possibile aggancio con l'epica omerica, dobbiamo andare a guardare altrove, precisamente nel vicino Oriente Antico. Nell'archivio di Khattusha, l'odierna Böghatsköy in Turchia, la capitale dell'impero ittita, che durante la tarda età del bronzo era stata una delle nazioni più influenti del vicino Oriente Antico, è stato identificato un corpus di 28 testi, dai quali si può estrapolare il difficile rapporto tra gli Ittiti e un loro vicino occidentale, presentato con il nome di Akiyawa. La maggioranza degli storici odierni è inclina a identificare in Akiyawa il mondo miceneo, sia per l'assonanza del nome con Akayoi, sia per l'onomastica di alcuni dei suoi esponenti, sia per la sua collocazione geografica, che secondo gli Ittiti sarebbe stata oltre il mare, apparentemente a ovest delle isole a largo della costa anatolica. Oltretutto, come fa notare l'archeologo Eric Klein, cercare Akiyawa altrove porterebbe a un assurdo di ragionamento. Se i micenei non sono Akiyawa, d'altra parte manca negli archivi Ittiti qualunque altro candidato nel quale possano essere riconosciuti, e sembra molto improbabile che gli Ittiti non si siano mai trovati in condizione di dover citare i micenei nei loro documenti. Ci troveremo davanti all'assurdo di una cultura dell'età del bronzo molto importante, come quella micenea, attiva, e questo lo sappiamo dai reperti archeologici nell'Anatolia occidentale, che è completamente assente dalla documentazione Ittita, e al contrario dinnanzi a una nazione importante, Akiyawa appunto, per la quale però mancherebbe una qualunque corrispondenza in ambito archeologico. I primi rapporti tra Akiyawa e il mondo Ittita sono da circostanziare al 1400 a.C., quando si fa riferimento a tutta una serie di scorrerie ai danni dei vassalli Ittiti dell'Anatolia occidentale e dell'isola di Cipro portate avanti da un tale a nome Attarsia, presentato come Uomo di Achia. Attarsia sarebbe giunto in Anatolia con un imponente esercito e addirittura con cento carri da guerra. Per il nome Attarsia è stato proposto un parallelo con la forma micenea del nome di Atreo, il fondatore di Micene, padre di Agamennone e di Menelao secondo il mito. Secondo l'ittitologo Albrecht Goetze invece Attarsia non sarebbe propriamente un nome, ma un aggettivo possessivo, di Atreo, quindi traducibile sostanzialmente con Atride, e Atride effettivamente è un attributo nell'Iliade sia di Agamennone sia di Menelao. Se l'imponente esercito di Attarsia con i suoi cento carri da guerra difficilmente poteva essere schierato da un singolo reame miceneo, al contrario forse sarebbe compatibile con una confederazione, un'alleanza, costituita da diversi regni micenei, e il collegamento corre immediatamente al catalogo delle navi dell'Iliade, dove vengono elencati tutta una serie di popoli greci, di città, di regni, che sotto l'egida di Agamennone, l'Atride, presentato anche come re dei re, si preparano per l'impresa troiana. Contemporaneamente alle spedizioni di Attarsia in Anatolia noi possiamo supporre che il mondo miceneo coltivasse anche degli ottimi rapporti con la Lega di Assua, una confederazione nata estemporaneamente tra 22 città-stato e piccoli reami dell'Anatolia occidentale proprio per arginare l'espansione ittita. Dalla documentazione ittita noi sappiamo che un re di Akiyawa aveva dato sua figlia in sposa al re della Lega di Assua, e oltretutto durante gli scavi a Hattusha del 1991 è stata scoperta una spada consacrata dal re Tudkaliya per celebrare la sua vittoria proprio su Assua, e questa spada è evidentemente di fattura micenea. Da questo momento in poi il mondo miceneo, Akiyawa, sarà un elemento destabilizzante per quanto riguarda lo scenario dell'Anatolia occidentale, costantemente pronto ad appoggiare e a sfruttare il malcontento dei reami luvi in funzione anti-ittita, per cercare di ricavare un suo spazio personale nello scacchiero anatolico. Delle 22 nazioni dell'Anatolia occidentale, in massima parte espressione del popolo dei luvi che vanno a costituire la Lega di Assua, ve ne sono due che molto probabilmente trovano la loro collocazione in seno all'epica omerica, Wilusia e Taruisa. Secondo il linguista Paul Kretschner, il primo a formulare questa ipotesi, che oggi però è abbracciata dalla maggioranza del mondo accademico, Wilusia e la sua forma successiva più comune Wilusa sarebbero da collegare alla Ilio cantata da Omero, che originariamente secondo un'analisi metrica avrebbe avuto il nome che principiava per Di Gamma, suonando quindi Wilion. Anche Taruisa troverebbe un proprio corrispettivo nell'universo americo, probabilmente la regione della Troade. Oltretutto le coordinate geografiche che si possono ricavare dal documento ittita CTH 191 mostrano come l'ubicazione di Wilusa sia in buona misura sovrapponibile a quella della Troia scavata da Schliemann. Se Wilusa aveva aderito alla Lega di Assua in funzione anti-ittita, successivamente risulterà un vassallo fedele dell'impero, tant'è che quando nel 1320 si formerà una nuova Lega di Popolazioni Luvie volta a contrastare gli Ittiti, in questo caso Wilusa non vi prenderà parte e rimarrà estranea. Al contrario invece anche in questo caso Akiyawa giocherà un ruolo cruciale, appoggiando i rivoltosi arrivando ad occupare direttamente la città anatolica di Milawata, Mileto, nella quale proprio in questo periodo si nota un condensarsi del materiale miceneo, e accogliendo infine presso di sé il re di Arzawa, Ucaziti, e il suo seguito in fuga dopo la sconfitta subita dal re Ittita Murshili II. Successivamente però, probabilmente alla ricerca di un clima di distensione con l'impero Ittita, leggiamo che il re di Akiyawa avrebbe riconsegnato alla famiglia reale di Arzawa, anche se forse vedremo non tutta, e i profughi luvi al re Ittita. In ogni caso comunque il mondo miceneo durante tutto il XIV secolo a.C. esercita una profonda influenza politica e anche culturale sull'Anatolia costiera. Negli scavi di Khattusha è emerso un frammento ceramico datato tra la fine del XV e XIV secolo a.C. che mostra la raffigurazione di un guerriero che è evidentemente miceneo, e questa evidenza, ricollegata con la spada micenea dedicata da Tudcalia al Lio delle Tempeste per celebrare la vittoria sulla Lega di Assua, fa presupporre che all'interno dei propri eserciti i ribelli luvi anatolici avessero o dei contingenti di guerrieri micenei o fossero armati loro stessi in maniera molto simile. Durante il XIII secolo a.C. i rapporti tra l'Impero Ittita ed Akiyawa attraversano una nuova fase di inasprimento. Secondo quanto riportato negli archivi di Khattusha la causa sembrerebbe essere l'operato di un avventuriero luvio, un certo Piamaradu, nel cui nome forse si potrebbe riconoscere la medesima radice del Priamo Omerico. Secondo alcuni titologi, in particolare Hawkins, Piamaradu sarebbe niente popò di meno che il nipote di Ucaziti, il re di Arzawa, che dopo essere stato sconfitto dagli Ittiti aveva cercato riparo presso Akiyawa. Per ben 35 anni Piamaradu si comporta come una spina nel fianco per gli Ittiti. Utilizzando il centro di Milahuata, sotto giurisdizione Akiyawa, come punto d'appoggio e base di operazioni, Piamaradu effettua delle scorrerie fulmine ai danni dei vassalli degli Ittiti, contemporaneamente richiedendo a gran voce che il re Ittita lo riconosca come nobile di Arzawa e che gli assegni quindi un governatorato. Piamaradu sembra anche coinvolto nell'occupazione della città di Willusa, che avrebbe costretto il re Ittita ad inviare un esercito per riconquistarla. Successivamente Willusa viene citata come causa di un grande attrito tra il re degli Ittiti e il re di Akiyawa. Da questo passaggio si potrebbe ragionevolmente supporre che Piamaradu non operasse solo sotto la copertura e la protezione di Akiyawa, ma anche con l'appoggio di veri e propri reparti di guerrieri micenei sotto al suo comando. D'altra parte Piamaradu viene successivamente citato operare nella terra dei Lici, in compagnia di un personaggio che viene indicato addirittura come fratello del re di Akiyawa, un certo Tawagalawa. Il nome Tawagalawa è probabilmente la traslitterazione Ittita del nome miceneo Eteuocleves, ovvero Eteocle, forse da mettere in relazione con il mitico eroe di Tebe. Dopo aver riconquistato Willusa il re Ittita Muatalli II si operò velocemente per reinstaurare il suo monarca precedente, e per ristabilire il rapporto di vassallaggio, come viene descritto magistralmente nel documento CTH 76, noto anche come Trattato di Aleksandu. Il documento è noto anche come Trattato di Aleksandu perché il nome del re di Willusa è proprio Aleksandu, ed è evidente che si tratta di un nome che non è né Ittita né Luvio, ma probabilmente la versione locale del nome Aleksandros, che ricordiamolo nell'Iliade è il secondo nome di Paride. Oltretutto la divinità protettrice di Willusa citata nel Trattato è Apalliunas, probabilmente una versione locale di Apelion, il nome arcaico di Apollo, una divinità greca che nasce probabilmente dalla sintesi di elementi di una divinità micenea, Teone, e una divinità vicino orientale, Aplu. Il quadro che si ricava da tutte le evidenze raccolte è evidentemente incredibilmente variegato, e se da una parte ci sono sicuramente degli elementi nella documentazione storica che possono essere collegati all'epica omerica, dall'altra è evidente che tutti gli eventi di cui abbiamo parlato non possono essere sovrapposti in maniera precisa al mito della Guerra di Troia. Il mondo miceneo aveva sicuramente giocato un ruolo molto importante in quello dell'Anatolia occidentale. I micenei avevano influenzato direttamente la cultura di alcuni stati Luvi, o erano arrivati addirittura, come nel caso di Mileto, a stabilire dei potentati che erano dipendenti dalla Madre Patria. In altri casi invece probabilmente si erano innestati a titolo personale nel tessuto sociale Luvio, così ad arrivare fino a un re di una città Luvia, Vilusa, che ha un nome evidentemente di tipo greco, Alaxandu. Sicuramente però tutto l'impianto che porta al mito della Guerra di Troia è ascrivibile a tutti questi eventi di cui abbiamo parlato e che sono spalmati per grosso modo 150 anni. La memoria di diverse scorrerie, di diversi rapporti, di diversi scontri si era amalgamata, e se da una parte abbiamo la memoria di Atarsia che giunge con quella che sicuramente è una numerosa confederazione di regni micenei a dare battaglia agli Ittiti, d'altro canto probabilmente altri eventi hanno coinvolto dei numeri minori e delle realtà probabilmente ascrivibili a uno o un paio di regni del mondo miceneo. Tutto questo è però molto difficile da ricavare perché l'unico filtro che abbiamo è quello dato dal mondo Ittita, che evidentemente ha un concetto di regalità proprio del mondo vicino orientale che è monolitico, e che quindi è poco compatibile con quello miceneo che è assai più duttile e assai più volatile. Quindi noi in generale abbiamo sempre nei testi Ittiti un riferimento a un grande re di Akiyawa che è una controparte del re Ittita, però non sappiamo con certezza quando questa controparte è stata effettivamente, forse come una tarsia, un gran re sotto il quale dipendevano monarchi minori, oppure in altri casi è stato semplicemente il re di una singola monarchia micenea. Come già detto comunque tutti gli eventi che hanno visto i micenei entrare in relazione con il mondo Ittita e con il mondo luvio debbono aver contribuito alla nascita del quadro all'interno del quale Omero o chi per esso ha sviluppato tutto il suo racconto. Personaggi come Alaxandu e Piamaradu, che in realtà in origine devono aver combattuto su fronti contrapposti, hanno finito per essere legati entrambi a Uilusa, a Troia, diventando addirittura padre e figlio, Priamo e Pari di Alessandro, mentre il conquistatore di Troia è diventato a Tarsia, la Tride, che in una certa misura probabilmente deve essere stato il massimo punto di aggregazione del mondo miceneo in contrapposizione a quello vicino orientale. Anche le memorie che sono state raccolte dal sondaggio archeologico probabilmente si sono fuse nel racconto omerico, perché se da una parte Troia VII ha con il suo strato scineroso, l'incendio e le testimonianze relative a un fatto d'armi può essere ben collegata alla conquista e alla distruzione di Troia da parte degli Achei, d'altro canto Troia VI, che è stata distrutta da un terremoto, forse potrebbe essere collegata all'allegoria del cavallo di legno. Il simulacro di un cavallo, animale sacro a Poseidone, dio del mare, ma anche dei terremoti. Termina qui questa disamina molto articolata delle possibili radici storiche nella guerra di Troia, e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie!